Avete costruito la vostra casa, adesso viveteci nel modo migliore. Commercial Basa e suoi parquet, i pavimenti, le rubinetterie, i rivestimenti, i sanitari, l'arredobagno e le decorazioni di interni sono davvero un bel modo di vivere bene la vostra casa. Commercial Basa non dimentica la vostra sicurezza, con la solidità dei portoncini blindati. Commercial Basa, l'importanza della qualità.